Piscina comunale chiusa senza preavviso oggi a Olgiatecomasco e duro scontro tra l'amministrazione e il gestore Lombardia Nuoto. Il sindaco della cittadina Simone Moretti ha diffidato la società che domani mattina dovrebbe regolarmente riaprire l'impianto. Il caso è esploso oggi quando gli utenti abituali della piscina si sono visti recapitare un messaggio che annunciava la chiusura dell'impianto. La decisione è stata presa in modo unilaterale e senza alcuna giustificazione dai gestori dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco nell'ambito di alcuni lavori che stiamo effettuando sull'impianto dice il sindaco di Olgiate Moretti. Non c'è alcun motivo che giustifichi questa decisione. L'amministrazione comunale è intervenuta duramente con una diffida alla società Lombardia Nuoto e la richiesta di riapertura immediata della piscina. Nell'interesse dei lavoratori e degli utenti abbiamo chiesto di riattivare subito l'impianto dice ancora il sindaco. L'amministrazione si è impegnata attivamente per garantire per quanto di competenza un buon servizio e sono stati investiti oltre 400 mila euro per interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti. Dopo il braccio di ferro tra amministrazione e società e le polemiche proseguite per gran parte della giornata nel tardo pomeriggio è arrivato l'annuncio del sindaco Simone Moretti della riapertura dell'impianto che dovrebbe scattare già domani mattina.